ciao a tutti e bentornati oggi voglio preparare con voi una pasta fredda perché oramai fa veramente caldo e quindi si ha voglia di mangiare cibi freschi con una crema di paprika dolce in questo caso piselli e del salmone affumicato tagliate strascioline diciamo due parole sulla paprika dolce sicuramente voi già la conoscerete perché fa parte della stessa famiglia dei peperoni che sono le solanacee arriva in europa tramite i lunghi resi che le importano dai turchi che a loro volta le erano andate a prendere in india quindi un giro molto molto lungo per arrivare fino ai giorni nostri noi appunto la utilizzeremo nella versione dolce per fare una pasta fredda in questo caso dei tortiglioni di grano duro all'intessicazione ma potete utilizzare il tipo di pasta che preferite ci serviranno anche un po di olio extravergine del pepe e del sale quindi possiamo procedere iniziamo mettendo a scaldare dell'acqua aggiungendo il sale e aspettando che raggiunga il bollore una volta raggiunto buttiamo la nostra pasta per questa sono previsti 9 minuti di cottura ma io ne farò soltanto 8 perché voglio tenerla leggermente al dente nel frattempo recupero una ciotola versiamo la nostra crema di formaggio spalmabile potete usare anche della ricotta e se vi piace di più o se l'avete in casa un cucchiaio e mezzo abbondanti di paprika un bel pizzicotto di sale uniamo dell'acqua calda come vedete in modo che si sciolga molto molto bene il nostro formaggio deve essere una crema piuttosto liquida e mi raccomando perché vedete poi dopo quando verseremo la nostra pasta la pasta comunque tenderà a continuare ad assorbire il liquido della crema quindi lasciatela un po liquida scoliamo bene i nostri tortiglioni aggiungiamo un abbondante giro d'olio extravergine di oliva e mescoliamo e questo ci serve per fare in modo che la pasta raffreddando non si appiccichi una volta fredda andiamo a versare nella nostra crema di formaggio paprika e sale mescoliamo ovviamente molto bene ecco vedete i tortiglioni come prendono bene questo condimento secondo me per questo tipo di paste sono veramente l'ideale piselli in questo caso sono ancora suggerati qui potete aggiungerne quanti ne volete in base un po al vostro gusto o anche semplicemente non metterli se non vi piacciono il nostro salmone affumicato tagliato a striscioline ne tengo un pochino da parte vedete perché lo utilizzerò poi per decorare un po il nostro piatto mescoliamo bene lasciamo insaporire e facciamo raffreddare in frigo due bei cucchiaioni ed iniziamo ad impiattare aggiungiamo qualche pisello che dà questa nota di colore verde molto molto simpatica e una spolverata di paprika intorno al piatto per dare allegria e completare la nostra composizione qualche fettina di salmone affumicato sopra la superficie del nostro piatto e se volete una spolverata di pepe se vi piace ma anche questo è facoltativo ancora qualche pisello eccoci qua avete visto facile facile semplice no una pasta veloce con pochi ingredienti e adatta veramente a tutti se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale e clicca mi piace e ci vediamo alla prossima ciao